Un cordiale buon pomeriggio ma soprattutto buona domenica. La prima del convegno, debuttanti e femmine di due anni sul meglio, non corre il numero 4, la DBL, ne rimangono in 10. E nonostante il debutto sembra già un match tra il 10, una Yune e Tualgar e l'11 di Union F, la quota pari, quasi 2. Intanto dopo una bella vittoria del Napoli, un po' sofferta, è la bella vittoria di Morgan Di Nardo con Olonokei nella prima batteria del Palio dei Comuni. Insomma, sempre Napoli sugli scudi, va via la macchina in velocità. Udian B, dal centro va facile al comando, parte alla grande Union F. E Union F punta in avanti, cavalli che affrontano la prima curva. Si completa il lancio in 14,7, sta passando l'Anaglou di Giorginio. E' partita bene anche l'alternativa, Yune-Tualgar, che va a parcheggiare in terza posizione. Intanto i 400 se ne vanno in 30 e mezzo. E davanti alle tribune, lunga fila indiana, a grado a piacimento l'Anaglou di Giorginio, la targata F e Union, e si va al completamento dei 600 iniziali, che se ne vanno in 45,7, si viaggia da 1,16 e un po' di spiccioli. Le cavalli affrontano la penultima curva. Union, Udian B, Yune-Tualgar, si va al completamento del mezzo miglio iniziale, 1,2,3, da 1,18 ora si viaggia, 16,6 di frazione, si affaccia la gar di Mario Minopoli Junior, e la leader cambia musica e registro, allunga sotto la minaccia dell'avversaria. Chilometro in 18,3,16 di frazione. Totalizzatore che aveva ragione a 500 metri dal traguardo, con le due in pole position, che si dovrebbero giocare la vittoria. Si distende ancora la grande l'Anaglou di Giorginio, non demorde la gar di Mario Minopoli Junior, e un'ennesima Varenne, ma Union sembra controllare, la curva l'ha completata e ora se ne dovrebbe andare. E infatti Giorginio un po' a fatica, possiamo dire, perché bisogna anche guidarla, Union F, un Etualgar, due stelle di due anni al debutto, niente male, viene via bene UB e K, facile la Naglou su quella di Minopoli, terzo il numero 5 di UB e K, 2,2,3, 13,9 sul mio cronometro la chiusa, 1,16,4 al totalizzatore, 2,16, signori, due puledre veramente molto interessanti, molto importanti, che hanno dato vita a una bellissima corsa e hanno onorato il totalizzatore, e nonché la produzione italiana, bene anche quella di Manini Dolci, UB e K, che è arrivata terza e ha guadagnata un'ennesima Varenne, la posta per entrare nel marcatore. È tutto, linea alla regia?